E quello che manca oggi nel nostro mondo è questa capacità di stare assieme, una casa, un luogo, un luogo degli artisti dove incontrarci, costruire delle sinergie, condividere, criticarsi e magari anche litigare perché no, però creare un mondo vivo. Alla fine noi oggi siamo tutti isolati, ognuno ha il proprio studio, spesso ahimè con delle rivalità assurde che ci portano ad essere disuniti e quando si è disuniti si perde. E quindi alla fine ci troviamo a essere un po' come, lo dico sempre, come i contadini che producono, fanno, pagano sulla propria pelle se arriva il temporale, la grandine e spesso perdono il raccolto e anche quando producono e producono bene sono altri che portano a casa i frutti fino in fondo. Il rischio è stato questo qui, la mancanza di solidarietà ed è una cosa che io ho sempre cercato di tenere lontano da me ma alla fine negli ultimi anni, negli ultimi trent'anni è venuta fuori, è una concorrenza spietata. E questo ha nociuto molto, secondo me anche alla produzione, al nostro fare quotidiano. Grazie.